Il SANA è stato inaugurato, i padiglioni sono sotto, però il SANA è anche un luogo dove si parla di contenuti di biologico sotto varie forme. In questo caso ha anche di regolamenti per rendere il biologico più sicuro e per comunicarlo ancora meglio. Sì, soprattutto per tener conto di quello che sta accadendo nel mercato che è in fortissima crescita, in fortissimo cambiamento. L'Unione Europea ormai tre anni fa, siamo ormai, spero, alle battute finali perché non ne possiamo più, ovvero è stato un percorso veramente lungo e difficile. Dovrà adesso ad ottobre chiudere questo dossier che dovrà riformare la nostra normativa base. Noi lavoriamo dal 1991 su regolamenti europei e questo è il regolamento base che viene riformato. Quindi dalla riforma di questo regolamento poi discenderà necessariamente l'adattamento di tutto il resto del quadro normativo. Due linee guida su questo regolamento. Insomma, quali sono i punti cardini su cui si appoggerà il biologico? Diciamo i punti cardini per noi italiani soprattutto. Il primo sicuramente riguarda il tema delle importazioni. Per noi è un problema estremamente delicato perché siamo molto preoccupati della concorrenza sleale dell'importazione, dell'aumento continuo di importazioni. Finalmente con questo regolamento si introduce un meccanismo molto più stringente di conformità, di equivalenza di quello che arriva dall'est ai paesi terzi e entra in Europa. Purtroppo i tempi di adeguamento saranno lunghi perché nella bozza che si sta discutendo si parla di 4 anni. Speriamo che questi tempi si riducano molto ma questo è un tema importante. L'altro tema riguarda i controlli. Qui nel frattempo è stato approvato un nuovo regolamento sui controlli ufficiali ad aprile. dobbiamo capire come mettere insieme questo nuovo quadro normativo che riguarda tutto il sistema dei controlli ufficiali e lagoalimentare con il nostro specifico sistema di controllo. Questo è un tema estremamente delicato perché significa per esempio già a livello europeo un passaggio di competenze dalla DG Agri alla DG Sante, cioè alla salute. Un'ultima battuta sul sana e il posto in cui essere in questo momento per parlare di biologico in Italia? Beh sì, è l'unica manifestazione specializzata che abbiamo ormai da 29 anni e continua ad essere l'appuntamento per tutti gli operatori e soprattutto per poter accanto alla sparta espositiva avere momenti di confronto e di riflessione come questo.